Buongiorno. Molto spesso noi ci poniamo una domanda, che ed è, ma perché? Molto spesso vogliamo capire, ma perché questo succede così? Perché quello è cosa? E cerchiamo spesso di trovare una risposta. Io spesso ho cercato, finché, per dire la verità, ho rinunciato. Perché mi sono accorto che per il quanto che io cercassi una risposta del perché qualcosa accade, cercavo la risposta nel modo sbagliato. Perché cercavo un qualcosa che fosse la ragione di quello che era accaduto. Cercavo una causa unica, diretta, del perché quella cosa fosse così. E mi sono accorto che per il più che io cercassi, cercassi, cercassi di trovare mille ragioni, e trovavo anche delle ragioni che erano in qualche modo piacevole da trovare, in qualche modo andavano a soddisfare una mia necessità interna. Però che c'erano tante altre risposte che erano tanto valide quante quelle. E quindi, a un certo punto, ho visto che è inutile. Quello che accade è che ogni cosa che avviene, dalle cose apparentemente più banali, alle cose più fuori della normalità, che sono quelle per le quali noi di solito ci chiediamo, ma perché? Noi non ci chiediamo il perché mi sono svegliato questa mattina, no? Noi non ci chiediamo come mai riesco a respirare. Noi non ci chiediamo perché ti vedo quando ci vediamo tutti i giorni. Noi di solito ci poniamo la domanda del perché quando avvengono delle cose che non corrispondono alla nostra aspettativa di come le cose dovrebbero essere e rimaniamo un po' sconcertati. A questo punto vogliamo capire ma come mai è successo così. Le cose avvengono, dal mio proprio intendimento, mai create per una sola ragione, per una causa unica. ma le cose avvengono tramite una complessa interdipendenza, tramite una complessa interazione che c'è fra tantissimi, tantissimi, tantissimi eventi, parti, oggetti, esseri, pensieri, continuamente. Una volta mi trovavo in spiaggia, ero verso la fine della giornata, un po' verso il tramonto, stavo facendo una passeggiata, ero vestito, non avevo il costume da bagno, così, e mi sono messo seduto in spiaggia. E a stare lì, a me mi piace molto osservare il mare, e così via, e cominciavo a osservare le onde che venivano verso di me, no? E facevo una sorta di gioco interno che vedevo fin dove arrivava l'acqua e dicevo non avvicinarti troppo. No? E stavo lì che guardavo, come se l'onda potesse ascoltare a me, no? E osservavo e vedevo che arrivava sempre più vicino, poi un po' lontano, poi veniva più vicino, finché si arrivava proprio, a un certo punto arrivava a pochi centimetri da dove ero, ed era un po' quel gioco di no, non arriverà fin dove voglio, fin quanto riesco, finché a un certo punto ho dovuto saltare, se no mi bagnavo tutto, no? E mi sono messo, ho fatto la seguente domanda quando ero lì. Perché ogni onda arriva fino a un certo punto? può sembrare una domanda stupida. Ma io mi sono chiesto, ma è per una ragione aleatoria? È un po' come giocare a dati, per dire, è una cosa random, no? Aleatorio, che ogni onda arriva più o meno di qua, più o meno di lì, o l'onda arriva fino a quel punto come risultato di una complessa interazione? è influenzata dal fondo del mare, è influenzata dalla barca che sta passando nel mare, è influenzata dai bambini che giocano qualche metro dentro il mare, è influenzata dalla pressione atmosferica, dalla temperatura, dalla fase lunare, o no? Così come è influenzata da un'infinità di altre cose che io non sono neanche capace di immaginare. Qual è la grande difficoltà di prevedere se piove o se fa sole? È riuscire a mettere insieme tutte le variabili di tutte le influenze che ci sono insieme e vedere come ognuna di queste parti interagisce fra loro per poter prevedere ciò che accade. Perciò se io mi pongo la domanda, è stata la domanda che mi sono posto quella volta che ero lì al mare, mi sono chiesto ma la posizione in cui arriva l'onda è aleatoria o è perfetta? Perfetta non intesa che non abbia delle interazioni che possano generare sofferenza, per dire l'onda che è arrivata che mi viene a bagnare non è perfetta per me. ma dinanzi alla perspectiva che è aleatorio o è un risultato che non potrebbe essere diverso dinanzi alla complessità di interazioni di cause e condizioni avvenute. È perfetta. Un altro esempio che ci aiuta a riflettere su questo è quando noi immaginiamo una foglia che cade da un albero. La foglia cade dall'albero e cade su una certa posizione noi vediamo quella posizione in cui cade quella foglia e ci chiediamo è una posizione aleatoria o è perfetta? magari come è successo qui al tempio va a cadere in mezzo al canale di gronda e non permette l'acqua di andare giù eccetera quindi non è perfetta da quel punto di vista sarei più contento se fosse caduta qualche centimetro in là ma non è questa la domanda la domanda è dinanzi a tutte le interazioni che sono avvenute poteva cadere in un luogo diverso o no? Non poteva cadere in un luogo diverso e quante sono le variabili che hanno fatto in modo che la foglia cadesse in quel posto? È un'infinità la cosa più incredibile è che di questa quantità non è infinito però innumerevole incalcolabile di condizioni di variabili che hanno fatto che la foglia cadesse in quella posizione bastava che una di quelle variabili fosse diversa che la foglia cadeva in una posizione diversa bastava che la formica non avesse morso la foglia in quel momento bastava che non ci fosse l'uccello passando in un certo momento bastava piccole cose e questo mi fa ricordare una bellissima scena di un film che è riuscito a far vedere in un modo grafico questo aspetto dell'interdipendenza in un modo molto bello ed era il film di Benjamin Button e c'è un certo momento in questo film che è lunghissimo c'è un certo punto in questo film dove c'è una ragazza che viene investita da una macchina e il regista riesce a far vedere la scena nella quale parte prima facendo vedere quello che si sveglia di ritardo e che quindi esce in ritardo il tassista che succede una cosa l'altro che succede un'altra tanti piccoli eventi che si interagiscono fra di loro che fa in modo che la ragazza esce in un certo momento che quella macchina arriva in ritardo che altrimenti non sarebbe arrivata in quel momento tac e c'è l'incidente quello che succede che bastava che una piccola parte una fra le innumerevoli varianti fossi diversa perché il risultato fosse diverso ok questo ci porta a un'altra domanda ancora la posizione in cui arriva l'onda è perfetta la posizione in cui cade la foglia è perfetta ricordo perfetta inteso che non poteva essere diversa viste le cause e condizioni avvenute a questo punto io mi chiedo io te siamo perfetti o siamo aleatori io sono perfetto immagino anche te più che immagino sono sicuro sono convinto così come la foglia che cade nel canale di gronda abbiamo delle cose che non è che ci piace nella nostra perfezione ma quello che noi siamo oggi nel momento presente non è aleatorio è il risultato di una complessità enorme di interazioni di eventi che sono avvenuti qual è una delle differenze fondamentali che c'è fra la foglia e noi che la foglia è un essere vivo però non senziente noi siamo un essere vivo e senziente qual è la differenza che c'è fra questi due una foglia in quanto un essere vivo interagisce con il mondo che circonda seguendo delle chiamiamo così delle leggi delle regole molto stabili quindi è un po' come una pianta alla quale se tu metti l'acqua nel modo giusto e se tu interagisci in un modo ottieni sempre la stessa risposta per questo è molto più facile interagire con le piante che con le persone perché quando noi abbiamo se noi impariamo il loro modo di essere e capiamo com'è sappiamo che c'è sempre una coerenza una pianta una pietra qualunque oggetto sia esse non essere essenziente ha coscienza quindi noi non solo interagiamo tramite il nostro corpo eccetera ma noi immaginiamo riflettiamo proiettiamo non è che dici ok hai messo l'acqua oggi però oggi non c'è voglia di fiorire perché è successa quella cosa lì ce l'ho con te cosa hai fatto non lo so però ce l'ho con te no? non è mai capitato che vai da qualcuno fai le stesse cose come di solito e hai una reazione diversa ma cosa è successo? e vado a spiegare se neanche la persona stessa capisce quello che accade è che in quanto esseri senzienti non sono solo gli esseri umani qualunque essere che possiede una mente viene detto esseri senziente e non è qua adesso il momento per discutere quali esseri hanno una mente se la pianta ha una mente non ha e perché non ha non è il momento per discutere quello ok? seguendo gli insegnamenti buddhisti le piante sono esseri vivi ma non senzienti però questo non è il momento per discutere quello dobbiamo partire più che altro dalla domanda io sono un essere vivo ma sono anche senziente o no? sì quindi io non solo interagisco con il mondo come una sorta di reazione quasi automatica ma io ho una capacità di scelta di pensiero che dove si trova il nostro liberbitrio dove si trova alla nostra libertà ok? perciò quando noi ci troviamo dinanzi a qualunque situazione in ogni momento la nostra libertà è molto 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 piccola perché noi non siamo liberi dal nostro passato dalle esperienze già vissute noi non siamo liberi dal corpo che abbiamo addirittura ci sono per esempio degli estati emozionali come certe paure che ci arrivano dai nostri genitori o noni ci sono certe paure che vengono tramandate geneticamente ci sono degli aspetti del nostro carattere del nostro modo di essere abbastanza spontanei che non dipendono solo da noi che sono cose che avvengono tramite il nostro passato da questo corpo noi siamo esseri composti di corpo e mente insieme e non siamo liberi dal corpo in cui noi ci troviamo noi percepiamo la realtà tramite i nostri sensi se avessimo dei sensi diversi percepiremo la realtà in un modo diverso cosa succede quando gli ormoni impazziscono il mondo viene percepito in un modo diverso di quando sono in un altro stato ossia noi percepiamo la realtà tramite il nostro corpo anche corpo e mente vanno fortemente insieme e ci sono principalmente quattro tipi di caratteristiche che determinano il nostro presente che vengono chiamate le quattro tipi di qualità che noi abbiamo o caratteristiche ci sono le caratteristiche della nostra persona che noi otteniamo tramite la nostra famiglia quindi vengono chiamiamo così in termini moderni il nostro dna in tibetano viene chiamato rikyu giyonten sono le caratteristiche che vengono dai genitori dai nonni e così via che vengono tramandate ci sono le caratteristiche che sono fisiche e mentali ci sono delle caratteristiche che avvengono tramite l'esperienza quindi sono le situazioni esperienze vissute durante la nostra vita che influenzano il nostro stato fisico emozionale mentale del momento presente ci sono le cose che abbiamo imparato e conosciuto il nostro livello di conoscenza intellettuale ciò che abbiamo imparato conosciuto la visione di mondo il contesto culturale in cui siamo cresciuti eccetera ciò che abbiamo imparato che va a determinare il nostro modo di vivere di essere e di interagire con il mondo e poi c'è l'altro che in realtà sarebbe più il primo che sono le caratteristiche che abbiamo con noi che vengono chiamate caratteristiche innate o spontanee che sono quelle che vengono portate di vita in vita ok adesso noi siamo un insieme di tutto questo e non siamo liberi da questo per dire noi oggi nel momento presente siamo influenzati dalle esperienze che abbiamo avuto nella nostra infanzia e adolescenza o no assolutamente sì nel nostro modo di percepire la realtà di relazionarci con gli altri di vedere noi stessi noi siamo molto più influenzati dal nostro passato di quello che noi possiamo immaginare è un po' come noi quando diciamo mettersi nei panni degli altri se io mi mettessi nel tuo posto però non sendo me se io mi mettessi nel tuo posto e tu ti mettessi nel mio però io mi mettessi nel tuo posto con il tuo corpo con le tue esperienze con la tua educazione con le tue impronte delle vite passate con le tue impronte familiari DNA e tutto il resto se io fossi te quanto diverso sarebbe il mio modo di agire del tuo praticamente uguale o no? perché quello che accade è che il nostro livello di libertà non è grande però esiste perché quando noi osserviamo la nostra propria vita e noi ci troviamo davanti a una situazione qualunque sia essa nella nostra quotidianità possiamo scegliere di andare o non andare fare o non fare dire o non dire sì? no? andiamo a comprare una cosa posso scegliere voglio questa o voglio quella o non compro nessuna posso scegliere che sono davanti a una persona manifesto quell'emozione o non la manifesto certe volte riusciamo altre volte no però abbiamo la possibilità abbiamo la libertà nel scegliere mi sveglio un pochettino prima o continuo a dormire mi metto a meditare o meno apro quel libro o guardo la tv abbiamo questa libertà o no? assolutamente sì e così come nella immagine della foglia che cade ci riusciamo a comprendere che bastava che una delle infinite delle innumerevoli variabili fosse diversa perché la foglia cadesse in un luogo diverso basta nella nostra vita una piccola variabile perché le cose siano diverse e questo mi fa ricordare un momento della vita di mio maestro dell'amagan Cerenfoce che c'è stato un evento che a me mi è rimasto come un esempio di come una piccola cosa può fare un effetto enorme di differenza ed è stato quando lui sceglie di fare un lungo ritiro quindi l'amagan Cerenpoce si trovava in India stiamo parlando della più o meno metà degli anni settanta verso la fine degli anni settanta lui prepara una casa piccolina prepara tutto per fare un ritiro di meditazione che doveva durare come minimo un anno e va già preparato tutto va a parlare con un suo amico che poi è stato anche mio maestro Genlacpala e dice a Genlacpala guarda io comincerò fra poco questo ritiro durerà però almeno un anno Genlacpala che era una persona di poche parole gli dice ah sì se io fossi in te io non riuscirei in questo ritiro a fare neanche cento mantra Genlacpala mi raccontò che Genlacpala lo guardò e gli chiesi ma perché cosa c'è di male e Genlacpala disse con tutti i debiti che tu hai in giro che la gente non viene a chiedere a te perché hanno rispetto di te in quanto la loro guida spirituale ma a me che sono tuo amico vengono a chiedere a me se io ho influenza su di te per far pagare i debiti con tutti i debiti che hai in giro riesci a sederti calmo a meditare e si sono lasciati un po' così fatto sta che Rimpocet ha pensato non è entrato in ritiro subito si è fatto il seguente programma vado al nord dell'India dove era stato invitato dal re del Sikkim per guarire la madre del re che aveva dei problemi agli occhi vado lì sto lì più o meno tre mesi raccolgo un po' di offerte un po' di soldi vengo giù pago i debiti e entro in ritiro anche perché i debiti che Rimpocet aveva non era perché lui aveva fatto qualcosa per sé ma perché c'era molta povertà in giro e lui quello che faceva conoscendo tanta gente lui la gente parlava a lui delle loro difficoltà e lui conoscendo tante persone andava da quelli che avevano un po' più di soldi faceva un debito prendeva un prestito e regalava a quelli che ne avevano più bisogno una sorta di Robin Hood che invece di rubare faceva i prestiti solo che prima o poi doveva pagarli e quindi lui si mise questo obiettivo vado tre mesi e torno per così faccio ritiro pago tutto e faccio ritiro però quello che è accaduto è che arrivando al nord dell'India ha avuto molto successo nella guarigione della madre del re del Sikkim è stato accolto nella loro casa eccetera e si raccontava che ogni mattina dopo dell'alba appena dopo l'alba c'era già una coda enorme di persone davanti a camera aspettando per essere guariti e quei tre mesi sono diventati tre anni ovviamente ha mandato i soldi per pagare tutti i debiti che aveva giù però la vita gli ha aperto altre porte in questo periodo è andato in Nepal dove c'era una cerimonia che è stata offerta a lui la prima volta che è stata offerta una cerimonia di lunga vita in quell'occasione era passato in quel posto un signore greco che si chiamava Jurgo che ha visto l'amagancione è stato profondamente colpito da lui e l'ha invitato a venire in Grecia che è stata la connessione tramite la quale l'amagancione è arrivato in occidente e tramite la quale gradualmente poi questo centro esiste e io sono qui e tutti noi siamo qui perciò ogni tanto mi sono chiesto ma cosa sarebbe successo se Genlacpalo non avesse detto nulla e Rinpoche avesse fatto l'anno di ritiro avrebbe incontrato Jurgo no ma cosa sarebbe successo se Jurgo a sua volta non volesse dare una mano al suo amico Zetan comprandogli i suoi tapeti e portando i suoi amici a comprare i suoi tapeti perché lui ha conosciuto l'amagancione non perché era andato appositamente ma perché era andato nel suo showroom per vedere i tapeti e in quel momento c'era la pugia nel showroom quindi se noi ci chiediamo queste piccole cose piccole e grande cose se non fosse successo questo magari noi non saremmo oggi qui tutto questo non esisterrebbe e avrebbe successo tanto altro diverso ed è incredibile vedere il potere che esiste in ogni piccola azione la forza il potere che esiste in ogni pensiero in ogni parola in ogni interazione e scelta che noi prendiamo nella nostra vita questo in altre parole viene chiamato karma karma letteralmente vuol dire azione azione che interagisce l'azione non finisce mai in se stessa può essere un'azione fisica può essere un'azione verbale o può essere un'azione mentale e ogni azione interagisce con se stessi e con gli altri e questa interazione porta della trasformazione e dei cambiamenti e ogni azione che noi compiamo va a generare una sorta di un'inerzia che prima o poi interagisce con altre azioni generando dei risultati delle esperienze per dire nel momento presente oggi noi ancora andiamo ad interagire con delle azioni nostre fatte nel passato o no noi nel momento presente interagiamo con dei pensieri avvenuti nel passato noi nel momento presente oggi interagiamo con delle scelte fatte nel passato è come se le scelte le azioni i pensieri le parole generano un'energia un'inerzia è come se io prendessi un oggetto e lo lanciassi in aria a differenza che non mi trovo nel pianeta terra ma mi trovo fuori dall'atmosfera terrestre dove non c'è ostruzione cosa succede se vado nello spazio e lancio un oggetto va avanti finché non trovo un qualcosa su cui si scontra ok non ci sento gravità non ci sento atmosfera eccetera eccetera ognuna delle nostre azioni viene detto che genera un'inerzia in un momento successivo compiamo delle altre azioni che vanno a interagire con la inerzia con l'energia di quelle azioni precedente generando delle esperienze generando dei cosiddetti risultati ai quali noi andiamo a reagire con altre interazioni con altre creazioni è molto importante comprendere che per la legge del karma non si intende dire il destino perché non è destino anche quando noi abbiamo detto prima che io sono perfetto e tu sei perfetto e ognuno di noi è perfetto non è destino è che dinanzi alla complessa interazione fra tutte le parti non poteva che essere così però nello momento presente noi abbiamo il potere di scelta e di direzionare la nostra vita in un modo piuttosto che in un altro e ogni istante ogni parola ogni scelta ogni pensiero non è che sia importante per la nostra vita è determinante non so il quanto noi riusciamo a vedere e ad essere consapevole del potere e dell'importanza che c'è in ogni azione perché mi sembra che ogni tanto è come se noi pensassimo che ci sono certe scelte nella vita che sono molto importanti ogni tanto vedo qualcuno che in un momento di difficoltà devo scegliere se comprare quella casa o no devo scegliere quale lavoro fare mi sposo o non mi sposo faccio questo piuttosto che quell'altro momenti di scelte importanti nella vita che uno vede proprio come questo va a cambiare la mia vita a seconda della scelta che faccio sì ma non solo ogni piccola azione ogni parola e ogni pensiero determina la nostra vita non sono che rimangono così disconessi da tutto il resto poi ci sono momenti in cui questo diventa più evidente ma perché io possa scegliere faccio questo lavoro o meno quante cose ho dovuto far prima per poter arrivare a questa scelta che se non avessi fatto questa scelta non esisterebbe neanche inconsapevolmente una volta ho sentito questo esempio che diceva la vita è un po' come quel gioco dei bambini di disegnare seguendo i punti numerati non so come si chiama in italiano questo gioco comunque nel quale si va a collegare i punti numerati e mentre si collega i punti uno ha l'attenzione da un punto all'altro e non vede il disegno che sta facendo ed è solo quando ha finito che guarda da lontano e vede il disegno che ha fatto similmente noi quando interagiamo quando compiamo un'azione molto 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 difficilmente riusciamo a avere una visione ampia e capire cosa stiamo facendo difficilmente riusciamo a vedere dove ci porterà quante volte che non ci capita delle cose che sembrano bellissime che poi hanno degli effetti brutti altre volte invece delle cose difficili che poi hanno dei bellissimi risultati l'interdipendenza nella quale noi viviamo è molto complessa però uno dei punti importanti è vedere che ogni piccola azione ha un potere non grande ma di più determinante nella nostra propria vita e questo viene definito quando si spiega la legge del karma nella filosofia buddista vengono definiti quattro caratteristiche del karma questa è la caratteristica che viene detto non esistono azioni che non portino a risultati qualunque azione compiuta genera una forza un'inerzia che prima o poi andrà a interagire e porterà un suo risultato l'altra regola l'altra caratteristica del karma è non esistono risultati che a loro volta non siano stati creati dalle cause quindi qualunque cosa noi sperimentiamo è risultato delle cause e delle condizioni le cause sono le azioni fisiche verbali e mentali compiute da noi stessi nel nostro passato passato può essere un secondo fa un istante fa o può essere un tempo indeterminato fa queste sono le cause le condizioni sono di due tipi ci sono le condizioni interne e le condizioni esterne le condizioni interne sono le nostre scelte le nostre azioni i nostri pensieri il nostro corpo eccetera del momento presente quindi nel momento presente le scelte che faccio il modo in cui interagisco i pensieri che ho eccetera sono delle condizioni interne le condizioni esterne sono le scelte le azioni lo stato mentale fisico degli altri con i quali io interagisco quindi l'ambiente che mi circonda gli esseri che mi circondano tutte queste sono delle condizioni esterne il risultato che è l'esperienza che andiamo a vivere ciò che andiamo a vivere nel momento presente è la somma è il risultato dell'interazione fra le cause create da noi nel passato con le condizioni interne ed esterne del momento presente noi non possiamo vivere nulla per il quale non abbiamo creato le cause non esistono risultati senza che siano state create le cause la confusione che noi facciamo spesso è che noi vediamo le condizioni come cause seguendo una metafora le cause sono come i semi che vengono piantati le condizioni è l'acqua il sole eccetera se non c'è il seme puoi mettere quanta acqua vuoi non cresce la pianta no? perciò noi però diamo la colpa all'acqua al sole perciò molto spesso quando noi viviamo delle situazioni noi puntiamo il dito alle condizioni esterne di quello che noi stiamo vivendo nel bene e nel male quando quelle sono le condizioni e non le cause le cause riguardano sempre qualcosa che c'è nel passato e viene anche descritto negli insegnamenti di Buddha che noi abbiamo due tipi di ignoranza ma il primo tipo di ignoranza che noi abbiamo è che noi non riusciamo nel momento del risultato a vedere quali siano state le cause e nel momento della causa non riusciamo a vedere quali saranno i risultati ok questa è una forma di ignoranza che noi abbiamo però una cosa è certa qualunque cosa che noi sperimentiamo è perché in qualche modo da qualche parte le cause noi stessi ne abbiamo creati quali non lo so molto spesso io vedo qualcuno che mi chiede ma cosa ho fatto io per meritare quello che sto vivendo innanzitutto non è il meritare e non meritare non c'è giudizio c'è una semplice interazione non è che io lancio una pietra a certo punto la pietra fa il giro ritorna da me metto la testa di qua mi becca e la pietra c'era l'intenzione di picchiarmi no ho semplicemente messo la testa nel posto sbagliato nel momento in cui c'era una forza che veniva in quella direzione lì quindi non è se io merito o non merito il fatto è che noi facciamo delle cause che abbiamo una quantità infinita di forze generate inerzie delle nostre azioni che abbiamo compiuto nel nostro passato con le quali possiamo interagire perciò qualunque cosa viviamo nel presente è risultato di azioni compiute nel passato che si vanno a somare con le condizioni presenti nel presente e qua abbiamo due caratteristiche del karma la terza caratteristica del karma è che il karma ha una sorta di una sua coerenza similmente al fatto che se io pianto un seme di limone non posso cogliere una mela e se io me vado sullo stesso terreno e metto tantissimi piante di limone e poi metto un seme di mela quando quell'albero del melo cresce che frutti darà? bella non è che dà limone perché in giro c'erano limoni ok similmente a questo quando vengono definite le nostre azioni in tre tipologie principali queste tre tipologie nascono anche dai tre tipi di risultati che noi abbiamo noi sperimentiamo il mondo tramite le nostre sensazioni è tramite la sensazione che noi sperimentiamo la realtà le sensazioni sono di tre tipi esistono le sensazioni piacevoli che sono tutte le sensazioni che abbiamo che vogliamo che non finiscano e che quando finiscono vogliamo che tornino al più presto detto piacere abbiamo le sensazioni di sofferenza che sono tutte le sensazioni che abbiamo che le sensazioni possono venire tramite il contatto di uno dei nostri sei sensi cinque sensi più la mente sono tutte le sensazioni che abbiamo che vogliamo che finisca al più presto e che quando finisce che non torni più è la sofferenza e poi abbiamo le sensazioni neutre sono tutte le sensazioni che a noi poco ci importa se continuino o meno e abbiamo tutti tre le azioni che nel manifestare il loro risultato il risultato si manifesta come sensazione di sofferenza vengono dette azioni negative le azioni le cause che quando manifestano i loro risultati li manifestano come sensazione di piacere vengono dette azioni positive virtuose le azioni che quando manifestano i loro risultati si manifestano in sensazioni neutre sono azioni neutre ok perciò la definizione di un'azione positiva o negativa non è data da una sorta di come si può dire giudizio morale ma viene data dal tipo di risultati che manifesta qual è la difficoltà che abbiamo noi quando io ho letto questa definizione ho detto filosoficamente sta in piedi questa azione è positiva o negativa se nel momento dei suoi risultati manifesta come sensazione di piacere è positiva se nel momento dei suoi risultati manifesta come risultato di sofferenza è negativa ma che ne so io come manifesterà quindi come faccio io nel momento presente a comprendere se un'azione è positiva o negativa quando io non ho la capacità di collegare le due cose perché da un punto di vista filosofico sta in piedi ma da un punto di vista pratico lascia tanto a desiderare questa è la mia esperienza personale io ho cominciato a cercare di osservare e riflettere su che cosa determina delle azioni che portano a sofferenza che cosa determina le azioni che generano benessere e felicità un'azione per essere completa per avere la forza completa come un'inerzia per essere completa ha bisogno di quattro condizioni ci deve essere l'intenzione compiere l'azione concludere l'azione e rigioire dell'azione voglio uccidere vado a uccidere uccido sono riuscito voglio mentire comincio a dire qualcosa l'altro crede mi ha creduto voglio aiutare vado ad aiutare riesco ad aiutare che bello che ho potuto aiutare sono le quattro azioni complete ok se un'azione non ha le quattro condizioni comunque c'è una sua forza però è molto molto più debole perché noi possiamo compiere delle azioni senza avere avuto l'intenzione o no ovviamente sì l'esempio che mi è sempre venuto in mente mi trovo in un appartamento al decimo piano sto con un gruppo di bambini insegnandogli a fare la torta al cioccolato è un bel momento stiamo giocando eccetera eccetera a un certo punto il forno elettrico che c'ho comincia a prendere fuoco e comincia a uscire una sorta di fumo tossico c'è della plastica che brucia dentro qualcosa eccetera la porta della cucina è chiusa i bambini non hanno dove scapare prendo paura non voglio far del male a tutti quei bambini che sono con me l'unica soluzione che io trovo nel momento per salvare la vita dei bambini è prendere il forno e buttarlo dalla finestra anche facendomi male alle mani perché il forno brucia prendo il forno bruciandomi anche le mani e lo butto via dalla finestra quindi la mia azione che cosa è stata voglio salvare i bambini compio l'azione per salvare i bambini salvo il bambini da quel pericolo ah che bello sono salvi però nello stesso tempo il forno cade in testa qualcuno e lo uccide ho compiuto l'azione di uccidere quella persona o no sì c'era l'intenzione no ho compiuto l'azione per uccidere no l'ho uccisa sì rigioisco no quindi è un'azione che è presente che genera un'inerzia però che è molto molto più debole che se io avessi voluto uccidere fatto appositamente per uccidere ucciso e rigioisco e rigioito questo cambia totalmente la forza dell'inerzia che viene generata con quell'azione inanzi a questo le azioni hanno una loro coerenza e quello che determina principalmente la tipologia dell'azione è la motivazione con la quale viene fatta è un po' come se noi immaginiamo un arco e freccia se noi prendiamo l'arco con la freccia se utilizziamo la stessa forza per tenere l'arco tirare l'arco con la freccia e lanciare quello che cambia il risultato non è tanto la forza che io metto anche ma è principalmente la direzione che vado a dare l'atto è l'azione la direzione è la motivazione io posso compiere la stessa azione dando direzioni diverse e ottenendo risultati totalmente diversi perciò alla base delle nostre azioni c'è la nostra motivazione quando nella la motivazione si parte dall'egoismo si manifesta con rabbia aggressività odio quando c'è l'intenzione del fare del male all'altro o dove non c'è consapevolezza per la necessità e il benessere o la sofferenza dell'altro e dove c'è unicamente l'ossessione solo di se stessi quando è un'azione che è basata sulla gelosia piuttosto che l'invidia o piuttosto che l'insoddisfazione pensando solo a se stessi difficilmente genera un'energia virtuosa positiva quelle azioni che vengono compiute con la base di arroganza rabbia invidia gelosia attaccamento egoismo in generale generano più di queste stesse emozioni e generano situazioni di sofferenza le azioni che vengono compiute prevalentemente con amore quindi rispetto verso la necessità dell'altro consapevolezza dell'altro generosità gratitudine dove vengono fatte prendendo in considerazione il bene anche dell'altro sono prevalentemente azioni positivi dico prevalentemente perché non è così semplice di fare nero su bianco ok però una cosa importante è che ognuno di noi in fondo sa qual è la nostra motivazione a non sia che siamo messi proprio male la maggioranza di noi è capace di guardare dentro di sé e dire quello che sto facendo va bene o no noi sappiamo quindi non è una questione di fare il giusto lo sbagliato e questo va bene quello non va bene è una questione che ogni azione che noi compiamo porterà un risultato che noi stessi andiamo ad sperimentare la domanda che ci poniamo è che cosa voglio sperimentare se io voglio sperimentare sofferenza vado avanti con la gelosia con l'invidia con l'arroganza con l'aggressività con la violenza eccetera se io voglio sperimentare pace benessere voglio star bene io devo andare avanti a agire con rispetto gratitudine umiltà generosità amore con moralità quindi è cercare innanzitutto di sviluppare questa nostra consapevolezza e questa sarebbe la terza legge del karma terza caratteristica del karma che esiste una sua coerenza nelle azioni e nei risultati la quarta caratteristica è che il karma cresce che vuol dire uno dei modi più semplici per capire questo è più agisco in un certo modo più facilmente viene di agire in quel modo più io agisco con rabbia più facile mi viene di arrabbiare più agisco con amore più facile mi viene di sentire amore più riesco a sedermi per meditare più facile diventa meditare più io faccio una cosa più facile diventa fare quella cosa quindi è come se ogni azione che noi compiamo andiamo a aumentare l'impronta di quel modo di agire nel nostro essere e quindi diventa sempre più facile ripetere quella tipologia di azione quindi una delle caratteristiche della cosiddetta crescita o aumento del karma è il fatto che più agisco in un modo più facile mi viene di agire in quello stesso modo vado a rinforzare quel condizionamento vado a rinforzare quell'abitudine dentro di me e un'altra caratteristica è che quando noi andiamo a compiere un'azione si genera quell'inerzia che se noi non interagiamo con quella forza creata la tendenza di quella forza è di continuare e anche di crescere per quello che è importante generare un'altra azione che vada a opporsi con quella precedente ok però in essenza il punto principale è che nessuno di noi almeno parlo per me e per immagino la maggioranza di noi non posso dire nessuno la maggioranza di noi non abbiamo la consapevolezza di quali azioni porta quale risultato e il perché il come le cose avvengono così come avvengono però una cosa è certa che nulla viene dal nulla e nulla finisce in nulla e ogni cosa che avviene è il risultato di una complessa interdipendenza che c'è una quantità innumerevoli di parti che interagiscono in questa complessa interdipendenza basta che una parte sia diversa perché il risultato sia diverso per cambiarlo e noi facciamo parte di questo nella nostra vita questo mi fa ricordare una volta che dovevo viaggiare ero in India dovevo andare a Borobudur in Indonesia sono andato dal mio maestro Genlacbal e ho chiesto a lui Genlac puoi guardare per favore astrologicamente se va bene viaggiare in quella data o meno nell'astrologia tibetana c'è tutta una parte che riguarda se va bene viaggiare o meno in quella data e Genlacbal mi guarda e dice no ecco Genlac per favore tu lo sai vedere e lui ha detto sì e perché non puoi vedere no ok io insisto finché a un certo punto io chiedo Genlac almeno mi dica il perché non me lo vuoi vedere e lui mi dice hai già comprato il biglietto no ho detto sì eccoci se per caso io guardassi e non fossi un buongiorno per viaggiare tu sei disposto a cambiare il biglietto ho detto no ho detto vedi se io dovessi vedere e venisse fuori che non è un buongiorno per viaggiare l'influenza che la tua mente ha su te stesso è molto maggiore che l'influenza di tutti gli altri gli astri messi insieme se tu non dovessi ancora non avessi ancora comprato il biglietto e avessi bisogno di una capire quando era meglio fare la guardavamo non tolgo lui mi diceva l'influenza che gli astri possono avere sulla nostra vita ma l'influenza che la nostra mente ha sulla nostra vita è enorme quindi se cominci a vedere ah ah quel giorno è brutto perché c'è questo e uno comincia a generare paura e incertezza eccetera questo crea un'influenza molto maggiore che quella astrologica perciò noi siamo influenzati da una quantità di forze enormi siamo influenzati dall'ambiente in cui viviamo dalle persone con cui interagiamo dal cibo che mangiamo siamo influenzati da una quantità di cose enormi ma la più grande influenza sono i nostri propri pensieri le nostre proprie scelte influenza sulla quale noi abbiamo la capacità di scelta se noi ritorniamo agli antichi greci quali sono i fenomeni che dipendono da noi i nostri pensieri le nostre scelte le nostre attrazioni le nostre avversioni le nostre proprie azioni quindi la legge del karma vivere secondo la legge del karma credere nella legge del karma che viene anche detto che è il primo passo per mettere in pratica il dharma gli insegnamenti di buda viene detto uno comincia a praticare gli insegnamenti di buda dal momento in cui vive secondo la legge del karma vivere secondo la legge del karma vuol dire fra altre cose credere nel potere di ogni azione che noi compiamo essere consapevole che ogni parola che ogni pensiero porta dei risultati a breve medio e lungo termine breve termine intendo dire oggi domani medio termine fino alla fine di questa vita lungo termine per le prossime fatto sta che ogni cosa porta un risultato questo non ci porta a dover vivere in paranoia ma sì con un senso di responsabilità e consapevolezza dove le nostre azioni dipendono da noi e quindi portarci a vivere non più dove andiamo a interagire come una reazione del mondo che ci circonda ma sì come un'azione consapevole e questo ci porta un'altra cosa ancora che è noi possiamo vivere la vita vivendo il momento presente come essendo il risultato del nostro passato ossia io agisco in questo modo io penso parlo agisco fisicamente quindi io agisco nel momento presente come una reazione come un risultato di ciò che è avvenuto tu mi hai detto questo io faccio quello è successo quell'altro io faccio quest'altro ok e questo è quello che spesso facciamo noi quando noi ci chiediamo perché faccio questo perché è successo quello quindi noi viviamo nel momento presente come un risultato di ciò che è avvenuto nel passato un altro modo in cui possiamo vivere è quello nel quale noi viviamo il presente non tanto come un risultato del passato ma come una causa del futuro quindi io non vado ad agire nel momento presente perché è successo qualcosa nel passato io agisco consapevolmente nel momento presente secondo ciò che io voglio sperimentare nel futuro quindi cosa voglio io domani io voglio armonia soddisfazione benessere o sofferenza eccetera voglio star bene quindi devo agire in un modo coerente con quello che voglio avere è un po' come quando parliamo del nostro corpo io voglio avere una vita dove ho un corpo sano o un corpo malato se voglio vivere con un corpo sano devo mangiare le cose in un modo giusto devo avere un certo stile di vita perché è quello che mi permetterà di avere un corpo sano si sperano perciò anche se nel momento presente mi viene di reagire a ciò che è accaduto io invece agisco consapevolmente verso ciò che voglio ottenere quindi nella legge del karma non è destino non è ah quello che mi accade è il risultato di quello che ho fatto e devo subire il mio karma guarda che bel karma ho guarda che brutto karma ho la tendenza di quelli che dicono di credere nel karma è che dicono quando succede qualcosa di bello guarda che bel karma ho quando succede qualcosa di brutto è la colpa dell'altro invece il punto del karma principale non è di dire ah tanto questo è il risultato di quello che ho fatto ma è cosa voglio vivere quando io vivo il risultato accolgo quello che viene però mi ricordo che nello stesso momento io sto costruendo il mio futuro e che futuro voglio avere dove voglio andare chi voglio essere e io ho la libertà di trasformare e di cambiare me stesso in ogni piccola azione e questo si riassume sempre in quella frase di Buddha che dice in tibetano che vuol dire io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico in altre parole non sono la vittima di nessuno però la domanda è io voglio essere il mio protettore o voglio essere il mio nemico però quando siamo consapevoli di questo cominciamo ad agire dinanzi a questa consapevolezza e ripeto una volta ancora la forza che ci guida nella vita può essere il passato o il futuro e io credo che sia meglio per noi quando la forza che ci guida è il futuro e non il passato quindi io agisco oggi non secondo ciò che è avvenuto ma secondo ciò che voglio essere secondo ciò che voglio che avvenga e gradualmente io vado a creare quindi io riconosco che il presente è dove si manifesta il risultato del passato ma anche dove si costruisce e si crea il futuro quindi io devo vivere il momento di oggi mettendo la mia energia verso il futuro accogliendo il passato e direzionandomi con consapevolezza verso il futuro che voglio vivere ok quello che io chiedo solo è che fra tutto questo che ci siamo detti se c'è qualcosa che voi ritenete che possa essere di beneficio cercate di mettere in pratica alla fine dei conti la cosa importante non è se uno è o non è buddista si dice credo non credo nella legge del karma la cosa importante è vive con coerenza o no siamo responsabili delle nostre proprie azioni o no e una cosa per me fondamentale della legge del karma è che più per me rifletto sulla legge del karma più mi dà una profonda sensazione di libertà perché quello che io vivo dipende da me il mio futuro è nelle mie mani va costruito non va raggiunto in un attimo però è possibile farlo ok grazie a tutti grazie a tutti All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioieli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona ospì. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS